Scrivo per guadagnare del denaro, per poter sostenere la mia famiglia, ma sono anche un medico. È difficile fare bene entrambe le cose. Potrebbe rivelarsi un errore grave, non coltivare il vostro talento. Quando parlo dei miei iscritti, tutti mi consigliano vivamente di non abbandonare la medicina. Firmate con il vostro nome, che diamine. Anton Chekhov. È un bel nome. Su Vorin vuole pubblicare tutti i miei racconti. Il bello, il grande Chekhov, il genio. Ero innamorata di voi prima ancora di incontrarvi. L'amore non mi interessa. È una cosa che ti imprigiona e ti ruba l'energia. È una trappola. Tostoi vuole incontrarti. Vogliono darti il premio Pushkin. Evitate il sesso, la carne, espiate i vostri peccati, pregate Dio e flagellatevi ogni volta che siete preso dal desiderio. La scriverete se ve la commissiono. Un dramma realista. I miei personaggi vivono nella noia con la coscienza dei loro insuccessi. E tutto a un tratto. Un colpo colpisce l'orecchio degli spettatori. Non vi piace? Lo adoro. Alla salute di un buono a nulla.